La seduta del 15 gennaio In apertura di seduta il Consiglio regionale ha ricordato Giuseppe Fassino, consigliere della prima legislatura, scomparso lo scorso 27 novembre all'età di 88 anni. L'Assemblea ha poi effettuato alcune nomine. In una pausa dei lavori, componenti della Presidenza e della Giunta hanno ricevuto una delegazione di domodossola, che ha consegnato 10.396 firme di ossolani per evitare la chiusura del punto nascite dell'ospedale San Biagio. Fotografie da Auschwitz-Birkenau La mostra Fotografie dal campo Auschwitz-Birkenau 2012 presenta le immagini fissate da Bruno Abiamino. L'entrata del campo, le torrette di guardia e il filo spinato, i luoghi della morte, la desolazione delle baracche, il senso di solitudine e abbandono che cela gli orrori del nazismo e il tragico destino delle vittime dell'Olocausto. Fino al 17 febbraio in due sedie espositive in Torino, a Palazzo Lascaris e via Alfieri XV e nella Corte Medievale di Palazzo Madama in Piazza Castello. Premio Piemonte Mese Il 16 gennaio a Palazzo Lascaris si è svolta la cerimonia di premiazione della sesta edizione di Piemonte Mese, i giovani scrivono il Piemonte. Il premio, organizzato dall'Associazione Culturale Piemonte Mese, intende valorizzare il talento delle giovani penne dall'età compresa tra i 18 e 35 anni e si articola in quattro sezioni, ovvero Cultura, Storia e Ambiente, Economia e Artigianato, Eno Gastronomia, Audio Video. All'edizione di quest'anno hanno partecipato 158 articoli. Servizi della Biblioteca Da quando il servizio di prestito della Biblioteca della Regione è stato aperto al pubblico, il numero delle richieste è triplicato. Per chi non abita a Torino c'è anche la possibilità di chiedere in prestito uno dei volumi della Biblioteca attraverso le sedi decentrate degli uffici in relazioni con il pubblico della Regione. Sono nove in tutto il Piemonte, uno per capoluogo provincia più quello del Consiglio regionale a Torino in via Arsenale. Per informazioni, bibliotecachiocciolacr.piemonte.it, telefono 011 5757 371. Nuova stazione di Porta Susa Inaugurata il 14 gennaio, la nuova stazione di Torino-Porta Susa, secondo hub ad essere completato dopo Roma-Tiburtina. Alla cerimonia erano presenti le massime cariche del Governo nazionale, i vertici della Regione, Giunte Consiglio, della città di Torino, del Gruppo Ferrovie dello Stato e le autorità civili e religiose piemontesi. Dopo la cerimonia è stata svelata nella Galleria Centrale la stelle con inciso il Decreto Fondamentale dell'8 febbraio 1848, base dello Statuto Albertino.